Anche a Ribera, al pari di ciò che è stato deciso per la città di Sciacca da amministrazione comunale e organizzazioni di categoria, si va verso una turnazione tra i panificatori disponibili a lavorare la domenica e nei giorni festivi. Al momento è solo un orientamento di massima, venuto fuori durante l'incontro convocato dall'amministrazione Pace e al quale hanno partecipato diversi operatori del settore. Molti panificatori riberesi hanno dichiarato che la domenica e i festivi intendono rimanere chiusi, altri invece si sono detti disponibili a tenere aperte le proprie attività commerciali anche nei giorni di festa. Anche a Ribera l'incontro tra amministrazione e panificatori si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore il 20 novembre scorso del decreto dell'ex assessore regionale Mariella Lobello che, come noto, prevede la chiusura dei panifici la domenica oppure di vendere il pane panificato in precedenza, entro la mezzanotte del sabato, o acquistarlo da aziende terze. Decreto che prevede che il sindaco, sentite le organizzazioni di categoria, possa disciplinare una turnazione delle aperture domenicali. L'accordo raggiunto durante l'incontro convocato a Ribera dal sindaco Carmelo Pace sembra essere quello di consentire l'apertura solo ai panificatori disponibili attraverso una turnazione. Se ne saprà di più martedì prossimo 12 dicembre, al termine dell'incontro decisivo quello tra amministrazione comunale e associazioni di categoria.